Le donne che accorsero, prima per le elezioni amministrative, poi per quelle politiche e la scelta fra Repubblica e Monarchia, in quello storico 2 giugno 1946, furono le prime donne italiane della storia a votare. Grande la curiosità di vedere se le donne, corteggiatissime da tutti i partiti del tempo, si sarebbero davvero avvalse del loro diritto di voto. E le donne accorsero. Votarono infatti 12.998.131 elettrici contro 11.949.056 elettori, con una percentuale di votanti elevatissima, l'89,1%, raggiunta anche grazie al massiccio flusso di donne alle urne. Che cosa rappresentò per le elettrici italiane quell'avvenimento? Sicuramente una rivoluzione, condita da sentimenti contrastanti ed emozioni intense. Così, la scrittrice e giornalista Anna Garofalo, nel suo libro L'Italiana in Italia, raccontò il caleidoscopio di sensazioni provate dalle donne del suo tempo. La donna che vota è la grande curiosità di questa prima stagione elettorale, nella quale dovremo anche decidere fra Repubblica e Monarchia. Ci aspetta una doppia grande responsabilità ed è inutile nasconderselo assumendo atteggiamenti disinvolti. Le schede che ci arrivano a casa e che ci invitano con il nostro nome, cognome e paternità a compiere il nostro dovere di cittadini hanno un'autorità silenziosa e perentoria. Ne rigiriamo tra le mani e ci sembrano più preziose delle tessere del pane. E quando il sospirato 2 giugno arrivò, la gioia di poter esprimere, alla pari con gli uomini, il proprio voto, si mescolava anche all'ansia di non esserne quasi capaci. Lunghissima attesa davanti ai seggi elettorali. Sembra di essere tornate alle code per l'acqua, per i generi razionati. Abbiamo tutti nel petto un vuoto da giorni d'esame. Ripassiamo mentalmente la lezione. Quel simbolo, quel segno, una crocetta accanto a quel nome. Stringiamo le schede come biglietti d'amore. Si vedono molti sgabelli pieghevoli infilati al braccio di donne timorose di stancarsi e molte tasche gonfie per il pacchetto della colazione. Le conversazioni che nascono tra uomini e donne hanno un tono diverso, alla pari. Da quelle elezioni nacque la Repubblica Italiana. Furono 21 le donne italiane elette all'Assemblea Costituente, le madri della Costituzione. 3 furono le piemontesi elette Teresa Noce, Angela Minella, Rita Montagnana. Tutte e tre però elette in collegi fuori dal Piemonte. La più votata fu Rita Montagnana, con quasi 69 mila voti di preferenza. Si realizzava davvero un sogno. Quello del voto alle donne, accarezzato fin dall'Ottocento, da Anna Maria Mozzoni, da Maria Montessori, da Anna Kulishoff, da Lydia Poet, e da tutte quelle donne che avevano preparato con le loro lotte il lento ma deciso cammino della donna verso la conquista del diritto di voto. Riconoscenti a tutte loro, possiamo dire con orgoglio Viva il 2 giugno, viva la Repubblica, viva la Costituzione che all'articolo 3 sancisce le pari opportunità fra donne e uomini. Buon 2 giugno a tutti.